un minuto con padre pio dei luoghi del convento di san giovanni notondo dal santuario di santa maria delle grazie oggi qui per raccontarvi cosa accadde nel luglio del 1928 il guardiano padre tommaso diede l'ordine a padre pio di fare il ringraziamento la preparazione della santa messa non in sacrestia ma in coro quindi siamo proprio accanto al coro il matroneo di questa grande chiesa accanto al coro delle stimmate quindi padre pio dato che questo questa preparazione durava circa un'ora e quindi c'era molta gente che si accalcava e si avvicinava a lui anche per vedere le stimmate allora si diede questo ordine padre pio doveva stare sul coro si doveva preparare quindi fu un ordine che venne dato nel luglio del 1928 poi chiaramente le cose cambiarono quindi si ritornò di nuovo nella piccola sacrestia qui per dirvi anche per raccontarvi un episodio che ci aiuta un po anche a capire quanto erano importanti i suggerimenti e la stessa saggezza di padre pio beh racconta eligio d'antonio che un giorno mentre padre pio stava percorrendo il corridoio quindi la sala san francesco c'era un gruppo di svizzeri che un po entusiasti di vedere padre pio ci fu uno di questi svizzeri che disse che disse padre pio padre pio quanto sei bello quanto sei bello ecco dissero proprio così allora padre pio si gira ecco si ferma e dice finalmente finalmente c'è una persona che dice che sono bello ecco molto ecco con grande ironia eppure qui tutti quando mi vedono se ne scappano fece pure anche questa battuta ma subito padre pio riprendendo il dialogo con questi svizzeri disse che a riguardo della bellezza più volte lui aveva sottolineato che chi vuol stare bene in età inoltrata ebbene che si prepari prima la vecchiaia e poi la gioventù e siccome c'era qualcuno tra i perresenti che non aveva compreso bene le parole di padre pio lui andò ancora a spiegare meglio e disse che in gioventù non bisogna snervarsi con i vizi se si vuole fare una buona vecchiaia